Vogliamo spiegare cosa farà Abrex con la CNA in concreto? Abbiamo, come dicevo, lo stesso tipo di approccio rispetto alle problematiche relative alle difficoltà economiche che in questo momento hanno il nostro territorio ma non solo il nostro territorio ma tutta l'Italia e quindi noi insieme a loro riusciamo sostanzialmente sulla parte relativa alla capacità di finanziamento che le aziende riescono a trovare attraverso Fidi Impresa, attraverso il sistema di Fidi di CNA una selezione di quelle che sono le aziende che magari hanno qualche difficoltà in più e che da noi hanno la possibilità di essere finanziate perché per noi è importante molto di più la capacità produttiva la capacità di penetrare nei mercati piuttosto a quelli che sono i parametri che magari un sistema bancario non riesce a capire cioè per noi un'azienda che ha prodotti può andar bene per noi un'azienda che ha prodotti per una banca non va bene se non ha tutti i conti a posto è un'iniziativa interessante che può portare frutti importanti per le nostre imprese è un circuito serio, affidabile chiaramente si tratta di una moneta virtuale che sarà complementare all'euro non pensiamo sicuramente di sostituirlo ma di questi tempi di crisi anche di credito bancario può rappresentare un buon veicolo per aumentare i volumi e le attività delle nostre imprese se noi vogliamo fare un buon lavoro non ci dobbiamo rivolgere solo a quelli che hanno qualche problema e qualche difficoltà ma anche alle aziende sane che possono affiancare al credito bancario questo credito Abrex che viene scambiato tra le varie imprese che fanno parte del circuito con prodotti o servizi e quindi possono completare bene la loro gamma di attività